Sono venuti a trovare oggi i Vespri a Palermo, degli amici palermitani sono i precari dell'SU, Augusto, del Comune di Palermo, Augusto, Ester e Fabrizio. Cosa volete? Perché siete venuti qui da noi? Vogliamo che dopo 11 anni quasi veniamo finalmente stabilizzati, troviamo una certezza. Dopo essere stati né carne né pesce cerchiamo finalmente una stabilizzazione così come viene per ora pubblicizzato, usata tramite giornali, organi stampa e via dicendo. Però da un anno a questa parte cerchiamo di avere delle risposte certe, però risposte che non vengono date. Cosa vogliamo dalla politica? Dalla politica siciliana e forse dalla politica romana fatta dai siciliani? Che ci appoggino in questo, anche perché, ripeto, come ha detto il collega, è da 11 anni che svolgiamo lavoro in nero legalizzato. Non penso che sia... Nero legalizzato, spieghiamo che cosa è in nero legalizzato. Non abbiamo i contributi versati, quindi noi svolgiamo la nostra attività allo stesso modo dei dipendenti comunali, ma non abbiamo ad oggi contributi versati dal Comune di Palermo. Cosa vogliamo? Lanciamo il messaggio diretto. Vogliamo essere stabilizzati, vogliamo una sistemazione, una tranquillità economica. Non si può andare avanti in questa maniera. E quindi dico... Manca la volontà politica. Solo che manca purtroppo la volontà politica. Siamo i politici siciliani di dare una mano e portare avanti la nostra situazione, la nostra problematica. Anche perché questo è un problema di 3.000 persone che hanno 3.000 famiglie. E quindi il problema è molto grosso, è molto serio. So che molti di voi sono stati stabilizzati, sono stati sistemati. Sì, sono stati stabilizzati. In questo abbiamo noi l'onorevole giudice, Gasper, che comunque si è stato sempre prodigato, disponibile e conosce bene la situazione. Quindi noi chiediamo a lui una risposta al nostro problema. Io spero che l'onorevole giudice non si sia stancato di questa situazione perché bisogna dare una scossa veramente forte a questi politici siciliani. E il sindaco in questo caso? Il sindaco, a chi l'ha visto? Non lo so. Il sindaco ha detto a un incontro a Villaniscemi. Io vado avanti e non permetto a nessuno di ostacolare, di bloccare la strada per questo processo di stabilizzazione perché tengo a 3.000 famiglie. Caro sindaco, aspettiamo ancora di essere stabilizzati. Noi dovremmo sentire invece l'onorevole giudice a questo punto. Speriamo di sentire la sua. Lo sentiamo, lui è uno abbastanza disponibile, lo conosciamo, lo becchiamo subito al telefono e sono convinto che verrà e ne parleremo. Ok? Ok, grazie mille. Grazie. Spero di darvi risposta quanto prima. Speriamo. Carissimi amici di Vespri, buona giornata. Eccoci ancora una volta qui in biblioteca Nino Muccioli di Palermo, nella nostra sede, il nostro covo, il covo dei Vespri, a parlare di un problema assai grave che coinvolge i palermitani e ancora di più i precari della città di Palermo. Perché i precari? Perché abbiamo ricevuto tante email dove appunto ci segnalano, dicono ma noi dobbiamo fare i precari a vita, ci chiedono questo. Dice, voi da Vespri cosa potete fare per noi? La cosa più veloce da fare è quello di sentire un uomo delle istituzioni, un uomo che lavora a Roma, un uomo che lavora per i precari. L'onorevole Gaspari giudice. Devo dire che sin dall'inizio della mia prima legislatura la vicenda dei precari di Palermo, degli elestri di Palermo è stata centrale. Centrale per un principio, avevamo ereditato con l'amministrazione circa 7 mila precari, frutto di una politica purtroppo clientelare. Credo che è il dovere della politica dare a questi ragazzi una stabilità e poter loro fare dei progetti per la loro vita. Ci siamo riusciti, ci mancano gli ultimi circa 3 mila. Vi è stato un intoppo, ma un intoppo che presto sarà risolto in maniera tale da esaurire definitivamente questa nostra battaglia. Ma noi l'intoppo bene o male lo abbiamo così scoperto. Sappiamo che il ministro Tremonti ai tempi fece un taglio. Possiamo dire un taglio, una dimenticanza, come la possiamo specificare? Vede, la stabilizzazione del precariato necessita di un finanziamento al regime. Infatti le vicende che in atto si leggono sui giornali relativi all'AMIA, per esempio, relativi alla GESIP, su oneri finanziari molto forti, nascono dal fatto che sia in AMIA sia in GESIP il precariato fu stabilizzato con una sola annualità. Allora cosa succede? Che l'annualità in cui tu hai il finanziamento paghi. Nel momento del secondo anno in cui questo finanziamento va al regime dell'azienda, è chiaro che l'azienda si trova in difficoltà, noi abbiamo fatto nell'ultima finanziaria un finanziamento a regime per 55 milioni di euro all'anno, per sempre, in maniera tale da portare a regime la stabilizzazione. Quindi a tempo indeterminato. A portare a regime i 3002. Durante uno dei primi atti del governo Berlusconi, quello dell'abolizione dell'allice della prima casa, questi finanziamenti a regime di 55 milioni furono azzerati dal ministro Tremonti per coprire la legge ICI prima casa, bloccando di fatto la stabilizzazione, perché la Corte dei Conti non ci autorizza la stabilizzazione se il finanziamento non è nel regime. In parte lo abbiamo risolto attraverso un DPCM del presidente Berlusconi, che ci dai 55 milioni per un triennio, ho assicurazione che la settimana prossima, con una lettera che mi ha scritto il ministro Tremonti, finanzierà dal quarto anno in poi. Quindi ci stai dicendo che il ministro Tremonti ha ritirato? Assolutamente, ha rivisto la sua posizione, ritiene che noi siamo nel giusto, che in un momento di crisi come questa la stabilizzazione di questi ragazzi non si deve bloccare. Ti dico anche di più, io su questa vicenda sono disponibile a portare all'estrema conseguenza anche la mia stessa appartenenza a Forza Italia, perché quando si prende un impegno si deve mantenere e se non si mantiene si deve anche arrivare alle dimissioni pure dal gruppo, perché ho preso un impegno e intendo assolutamente assolverlo fino alla fine. Onorevole, però quando si parla di precari, diciamocelo pure, molta gente si immagina gente che non fa niente. Un ragazzo che guadagna poco, che non ha certezza per il futuro, che ha un contratto che scade ogni 31 dicembre non sapendo se il primo gennaio si rilavorerà, lavora con uno spirito diverso. La politica ha il dovere di stabilizzarli e di dare il futuro, loro hanno il dovere di lavorare. Infatti una cosa che io sostengo, io posso accettare la difficoltà in cui si è trovata l'AMIA, io posso accettare la difficoltà su cui si trova la GESIP, io posso accettare tante cose, ma non posso accettare che l'AMIA per esempio abbia il più alto numero di spazzatori e la città più sporca. Perché tu parli sempre di GESIP e perché parli sempre di AMIA? Perché come le dicevo in premessa, l'eredità originaria dell'amministrazione Erlanda è stata circa 7 mila precari. Di questi 7 mila precari una parte sono andati in GESIP, una parte sono andati in AMIA, una parte li stiamo stabilizzando attraverso l'emendamento giudice dei 55 milioni direttamente dal comune. Sto parlando di aziende che hanno incamerato quel bacino di precariato che oggi pagano un prezzo finanziario per quell'operazione, ma oggi credo che i ragazzi debbano essere contenti che la politica ha portato avanti questo e l'unico modo per poter restituire la contentezza e l'impegno che ha fatto la politica è fare anche la loro parte. Come è messa oggi la politica in Sicilia? Ma io credo che ci sia chiaramente qualcosa che non stia funzionando. Io sono molto preoccupato perché in un momento di crisi la politica deve essere più chiara. Invece in questo momento si vive in una grande confusione e stiamo dando, ahimè, l'impressione all'opinione pubblica che il Presidente Lombardo con i suoi uomini, in primis il russo che sta ridisegnando secondo me in maniera molto positiva la sanità, sta dando l'impressione di volere rinnovare e di volere cambiare, mentre parte del PDL e l'Udc sembra che voglia restaurare il passato, quel passato che ha portato la Sicilia nelle condizioni in cui si trova. Allora ci vuole un atto di coraggio. Io sono molto critico nei confronti anche del mio stesso partito, lo sono per un semplice motivo, perché mentre comprendo la posizione dell'Udc che è qua in maggioranza e che a Roma è opposizione e quindi ha interesse di fare vedere questa diversità, non capisco la posizione del mio partito che qui è in maggioranza e che guida il Governo nazionale. Cioè chi guida il Governo nazionale non può essere opposizione alla sua terra. Io mi auguro che nei prossimi giorni ci sia un chiarimento su questo, perché stiamo attenti. Delle cose che non funzionano non paga una parte della politica o l'altra. Delle cose che non funzionano non paga il cittadino. E quindi è un atto di irresponsabilità non dare una guida certa, una chiarezza alla guida della regione siciliana. Un messaggio da dare agli amici del cento destra, ma anche ai nemici, così per dire, del cento sinistra. Superate le differenze, superate il momento in cui volete dimostrare il vostro potere e unitevi per il bene della Sicilia e dei siciliani. Credo che sia il consiglio più saggio, più corretto, perché credo che la Sicilia stia toccando veramente il fondo. Amici di Vespi, con l'onorevole è tutto per oggi. Ci sentiamo perché vogliamo notizie su questa operazione Tremonti. Con enorme piacere. Con enorme piacere. Alla prossima. Ciao. Ciao.